Ecco, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano, sesta gara di andata del campionato provinciale giovanissimi, Girone e Chieti. Oggi ci renderanno in campo la Virtus Castelfrentano e il Vipa 2007. Il Vipa con la maglia rosso-verde e con la maglia bianca la Virtus Castelfrentano, per la prima volta indossano la seconda maglia ufficiale stagione 2017-2018, dello sponsor di Memmo, revisione auto-meccanica di Lanciano, l'arbitro della sezione AIA di Lanciano, schierate a centro campo per il saluto al pubblico. Ancora non fischi, però... il saluto al pubblico. Siete che c'è la termica, l'arne, le fanno freschette? Eh, come vi riscaldate, belle piana piana, apposta, andate alle rispettive panchine, ecco che vanno a salutare... Se vi piazzate vi faccio una foto a volo, subito, con la maglia bianca, su, e tanto l'arbitro... eh, piazzatevi senza... eh, veloci veloci, su, ecco qua, faccio la foto... Siamo giù, avanti, eh... Siamo giù, avanti, eh...